Ok, adesso. Vi do il benvenuto a questa giornata femmiana del 2023 da parte dell'INFN. Io sono Sabine Hemmer, referente per la comunicazione dell'INFN, Istituto Nazionale Fisico Nucleare della sezione di Padova e siamo qua all'interno del Dipartimento di Fisica e Astronomia, quindi vi do un po' il benvenuto a nome di questi due enti. Questa iniziativa è nata prima di voi, è nata nel 2001, quindi siamo alla ventunesima edizione, abbiamo saltato solo il Covid, giusto? E viene portata avanti quindi da tutti questi anni, principalmente dal professor Pascolini che vi porta i saluti, che purtroppo non riesce ad essere qui oggi perché ha una riunione fuori Padova, e dal professor Macchietto del liceo Fermi, che con grande impegno ogni anno riesce a sponarci per mettere in piedi questa giornata. E come tutti gli anni, anche quest'anno abbiamo organizzato due seminari, tutti e due sulla stessa tematica, tra due professori cercatori del Dipartimento e dell'INFN e poi alla fine ci sarà spazio per le vostre domande. Quindi per non perdere altro tempo passo subito la parola al professor Macchietto, che vi porta i saluti anche della preside, penso, del Fermi. Sì, infatti la preside che difficilmente con tutti i suoi impegni può essere presente, comunque vi mando il suo saluto alla preside Angelini del liceo Fermi di Padova, che sostiene, ci sostiene sempre in questa manifestazione. Vi devo, come dire, sollecitare a pensare che voi siete testimoni di un periodo, questi vent'anni della vostra vita, voi che siete qua, in cui forse verranno ricordati in futuro come anni mirabiles, probabilmente, forse quasi come i primi anni di cento anni fa, del Novecento, dove è sorta la meccanica quantistica e la relatività, perché in tempi recenti, dal punto di vista più tecnologico, se volete, però c'è stata la scoperta del bosone di Higgs nel 2011, nel 2015 c'è stata la scoperta delle onde gravitazionali, nel 2001 e poi in tempi più recenti, nel 2000, mi sono segnato qua nel 2013, hanno messo in commercio il primo computer quantistico, è un tipo di rivoluzione che è più sul versante tecnologico, ma sta cambiando le nostre vite, le vostre più che le nostre, adesso i vostri compiti li faccia con l'intelligenza artificiale, forse in un futuro prossimo la scuola cambierà completamente, anche per la presenza di queste cose qui, e voi siete immersi in un periodo che forse la storia ricorderà come importante, perciò è bene essere, come dire, con le antenne su, voi siete quelli che hanno le antenne più sviluppate di tutti, probabilmente qua dentro, e il professore oggi ci aiuterà forse a fissare qualche data, magari storica come quella per le onde gravitazionali, il giorno in cui è stata annunciata al mondo la scoperta delle onde gravitazionali, è stato un evento mondiale, e forse c'è qualche evento che è anche legato alla meccanica quantistica, che pur nata 100 anni fa, ma anche delle onde gravitazionali si parlava 100 anni fa, e però ci sono in ballo dei traguardi notevoli di cui il professore probabilmente partirà. Quindi avete l'occasione in questa sala importante di avere la testimonianza diretta di ricercatori che sul campo sono all'avanguardia, godetevi la conferenza, naturalmente i cellulari li spegniamo, non è neanche da dire, ma alla fine faremo anche un po' di domande e abbiamo le persone giuste per rispondere. Allora, no, no, mi sentite? Sì, adesso si vero. Partiamo con il primo seminario del professor Simone Montangero del Dipartimento di Fisica e Astronomia. Il grande tema è la sfida dei computer quantistici, lui ci farà una prima introduzione alla tematica sulla seconda rivoluzione quantistica. Il professor Montangero è al Dipartimento dal 2017, giusto, ma ha dedicato la sua vita, diciamo, da fisico al quantum computing, quindi hai sempre lavorato in questo ambito e quindi adesso dal 2017 qui a Padova. E anche PI di un progetto europeo molto importante, sempre su questa tematica, quindi siamo molto contenti di averlo qua oggi. Grazie. Grazie mille. Buongiorno a tutti. Da dove iniziare? Beh, intanto che sono molto anche emozionato, ho un compito arduo. Oggi quello che cercherò di fare è introdurre i concetti basilari alla meccanica quantistica e dirvi come mai e cosa ci possiamo fare e cosa stiamo cercando di costruire nei laboratori di tutto il mondo per sfruttare appunto i frutti di quella che è stata chiamata la prima rivoluzione quantistica, avvenuta e iniziata cento anni fa, quando abbiamo iniziato a capire come funzionavano il mondo atomico e subatomico. Allora io ho ora un po' di slide, se a un certo punto avete le domande interrompetemi pure, sono qui per rispondere alle domande, così vediamo di non perdere il filo e di rendere la cosa anche interattiva e magari più interessante per tutti voi. Allora io volevo iniziare con una frase complicata che è questa, in un sistema isolato l'entropia è una funzione non decrescente del tempo. Questa è una frase molto profonda e non so se l'avete già vista in classe, sì, quindi sapete all'inizio di cosa sto parlando e probabilmente sapete anche che cosa è l'entropia, comunque è il modo in cui noi misuriamo la nostra ignoranza o conoscenza su un sistema. Questa è una frase che sembra molto molto astratta, teorica e uno dice vabbè a me cosa mi interessa, serve per i fisici e per gente che ha la testa fra le nuvole, ma la cosa importante da diciamo uno degli aspetti importanti della termodinamica, che poi è quello di cui stiamo parlando, è che ci ha permesso di sviluppare tutta questa tecnologia. Quindi se voi adesso avete un cellulare, potete andare in giro oppure fate dei giocati ai giochini elettronici, è un risultato del fatto che qualcuno ha capito dei meccanismi fondamentali della natura e che poi dopo aver passato una prima fase in cui si osserva la natura, si descrive, se ne capiscono i concetti fondamentali, che poi è quello che fanno gli scienziati, si passa a una fase in cui questa conoscenza viene tradotta in ingegneria, quindi si utilizza per fare qualcosa di questo tipo. E questo è quello che abbiamo fatto essenzialmente negli ultimi secoli e si può fare uno schema, uno schema di riassumere tutta la tecnologia che abbiamo a disposizione seguendo una linea temporale. Abbiamo iniziato capendo la termodinamica e questo ci ha permesso di sviluppare i motori, i motori a scoppio, ma anche le varie macchine e con questo a un certo punto è venuto in mente che queste macchine meccaniche potevano essere utilizzate per fare calcoli, per processare informazioni. E quindi qui vedete la figura di una delle prime macchine che sono state create per risolvere semplici problemi algebrici. Macchine utili che andavano a una velocità ridicolarmente lente, l'hertz, quindi diciamo dell'ordine di un'operazione al secondo, qualcosa con cui voi potete sicuramente competere se vi chiedo di fare una somma, riuscite a farla in pochi secondi. Quindi questo è a livello di comprensione termodinamico, quindi di grosse quantità di atomi e di molecole, dopodiché un altro aspetto della fisica che anche conoscete bene è l'elettromagnetismo, quindi la descrizione e la conoscenza dei campi elettrici e magnetici. E una volta compresa in tutti i suoi aspetti con quelle che sono note come le equazioni di Maxwell, questo ci ha permesso poi ancora una volta di utilizzare queste conoscenze e ingegnerizzarle, capire come fare i circuiti elettrici e quindi a un certo punto siamo arrivati a utilizzare i circuiti elettrici ancora una volta per processare l'informazione e fare calcoli e questo è uno dei primi calcolatori elettronici che sono stati sviluppati, che chiaramente erano molto più performanti di quelli meccanici, ma ancora molto molto lontani rispetto a quello a cui siete abituati. Come abbiamo sentito prima, dallo spoiler del professor che mi ha introdotto questa giornata, all'inizio del Novecento si è passati dall'elettromagnetismo allo studio degli atomi, dei singoli atomi, delle singole molecole e si è capito che ancora una volta dovevamo introdurre delle nuove leggi della fisica, quella che adesso è nota come la meccanica quantistica e da lì è iniziata quella che oggi viene chiamata la prima rivoluzione quantistica. Perché? Perché la comprensione delle regole atomiche e subatomiche ci ha permesso di capire, per esempio, come costruire dei materiali o le proprietà di materiali che adesso fanno parte dell'industria dei semiconduttori, che è alla base dei transistor. Qui ancora una volta vedete i primi chip con cui, questo è l'Intel 4004, che era uno dei primi chip che erano alla base dei primi calcolatori moderni. Calcolatori moderni che erano passati nel frattempo da la capacità di calcolo dell'ordine dell'hertz ai kilohertz e ai megahertz, quando diciamo io avevo la vostra età, insomma iniziavano a esserci i primi computer moderni. Questo è il risultato non solo nel calcolo, ma per esempio anche i laser che ormai sto utilizzando qui, sono un frutto della prima rivoluzione quantistica. Quello di cui voglio parlarvi oggi è invece la seconda e la seconda è esattamente come abbiamo visto prima prendere la conoscenza accumulata nella descrizione del mondo atomico e subatomico e applicarla a costruire tecnologia tipicamente per tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni, quindi computer, sensoristica e comunicazione basate non sulle leggi della meccanica classica ma sulle leggi della meccanica quantistica e questo porta appunto a una rivoluzione e a un cambio di paradigma che è quello che stiamo cercando in questi ultimi anni di implementare nei laboratori di ricerca di tutto il mondo. Bene, da dove nasce tutto ciò? Nasce, e questa è una data importante, nel 1982 quando un fisico Richard Feynman che è noto per un sacco di contributi nella fisica in altri campi ed è un premio Nobel stava appunto cercando di risolvere uno dei problemi più complicati che conosciamo che è quello di descrivere le interazioni delle particelle fondamentali e quindi capire quelle che chiamiamo l'elettrodinamica e la cronomodinamica quantistica quindi le interazioni tra i quark e i gluoni, tra i campi elettrici e gli elettroni e per farlo c'era bisogno di fare dei calcoli molto molto complicati lui si è inventato dei metodi molto performanti ma che hanno un limite e a un certo punto si è reso conto che quello che stavano cercando di fare e che stiamo ancora cercando di fare i fisici di tutto il mondo era un processo sbagliato, perché? Perché noi stavamo cercando di calcolare delle cose che seguivano le leggi della meccanica quantistica con degli oggetti, dei computer, che seguono le leggi della meccanica classica e questo comporta il fatto che sia un processo completamente inefficiente adesso metà dei super computer di tutto il mondo ancora oggi vengono utilizzati per fare conti che durano mesi, anni per risolvere dei problemi di fisica di questo tipo metà di tutto il calcolo disponibile viene usato per questo quindi pensate quanto è inefficiente allora Feynman nell'82 ha detto beh ma questo è sbagliato se noi vogliamo simulare dei singoli atomi invece di usare dei computer classici dobbiamo utilizzare dei computer che siano fatti di singoli atomi e o che seguano esattamente le stesse leggi della fisica degli oggetti che vogliamo simulare e questa è stata la prima volta che è stata portata avanti l'idea di un computer quantistico quindi qualcosa che possa fare i conti utilizzando le leggi della meccanica quantistica bene, da lì varie persone hanno iniziato a pensare bene ma cosa implica questo, cosa vuol dire e in generale adesso abbiamo quella che si chiama la teoria dell'informazione quantistica che è una teoria che si occupa di capire cosa succede cosa succede quando l'informazione è codificata su hardware quantistici quindi in un singolo atomo io posso utilizzare un singolo atomo per codificare informazione quando parlo di informazione parlo dei famosi bit gli 0 e 1 che sicuramente avete visto quindi questo è un aspetto l'altro aspetto che ci ha portato inevitabilmente a considerare gli effetti quantistici nel calcolo è il processo di miniaturizzazione che abbiamo sperimentato negli ultimi 50 anni ogni volta che esce un nuovo cellulare, ogni volta che esce un nuovo computer sapete che è sempre più potente vi dicono che adesso sono a 15 GHz eccetera eccetera questo perché i processori sono sempre più piccoli seguono quello che viene chiamata la legge di Moore ogni 18 mesi il numero di transistor che riusciamo a mettere in un certo spazio raddoppia quindi c'è una crescita esponenziale e ogni transistor vi dà una capacità di calcolo maggiore ora siamo arrivati al punto che i chip moderni hanno delle dimensioni di circa 10 nanometri ora la distanza, sono fatti di silicio e la distanza di due atomi di silicio nel silicio è di 0,2 nanometri quindi capite che in questi oggetti che riusciamo a ingegnerizzare essenzialmente sono fatti di 50 atomi o dell'ordine di 100 atomi quindi quando noi abbiamo dei singoli atomi o pochissimi atomi sappiamo che gli effetti quantistici è che la legge della meccanica classica quella che avete visto F uguale a M per A non funziona più dovete cambiare le leggi fisiche che descrivono il sistema quindi siccome siamo arrivati al limite in cui molto più piccoli non possiamo costruirli e quindi gli effetti quantistici giocheranno un ruolo per forza nei nuovi chip l'idea è sfruttiamoli non cerchiamo di fare con qualcosa che non è più un oggetto classico quello che facevamo prima allora che cosa è che possiamo pensare di fare assumendo di essere in grado di manipolare per esempio i singoli atomi un singolo atomo e non solo osservarlo ma proprio utilizzarlo per fare qualcosa beh la prima applicazione la più semplice applicazione che potete pensare è quello che vengono chiamati adesso i sensori quantistici allora cosa è un sensore? beh un sensore è un oggetto che usate per misurare qualcosa se volete sapere se avete la febbre avete bisogno di un termometro e dovete farlo interagire con l'oggetto di cui volete misurare una proprietà e tramite una qualche interazione che è un processo fisico l'oggetto che misura cambia di stato e voi leggete adesso i termometri sono elettronici e leggete direttamente il numerino forse avete ancora visto i termometri vecchi con il mercurio dentro che si espandeva e leggevate la temperatura quello era dovuto al fatto che mettevate il termometro in contatto con l'oggetto di cui volevate sapere la temperatura quindi adesso l'idea è di dire bene se noi siamo in grado di controllare perfettamente un singolo atomo possiamo prendere il singolo atomo metterlo in contatto con l'oggetto che vogliamo o farlo interagire con l'oggetto che vogliamo misurare vedere come cambia lo stato del nostro singolo atomo e misurare la quantità in questo caso saranno campi elettrici, campi magnetici ma indirettamente anche la temperatura e questo ovviamente vogliamo farlo in maniera quantistica perché se fosse un non vogliamo ripetere un processo semplicemente un processo classico e cosa vuol dire? vuol dire che vogliamo sfruttare le due proprietà fondamentali della meccanica quantistica che non sono presenti nel mondo classico e queste due proprietà sono quelle che vengono chiamate la coerenza quantistica e le correlazioni quantistiche che adesso poi vi andrò a presentare velocemente però prima fatemi dire che cos'è che uno può pensare di avere con i sensori quantistici questa è una citazione da un lavoro di dieci anni fa in cui ancora diciamo lo sviluppo dei sensori quantistici era nei laboratori e si prevedeva di essere in grado di misurare temperature con la precisione del millikelvin quindi del milligrado centigrato con una precisione spaziale di qualche decina di nanometri quindi voi riuscite cosa vuol dire questo? beh, implica che uno potrebbe andare per esempio in una cellula durante una reazione chimica e misurare la temperatura nei vari posti della cellula per capire molto meglio e caratterizzare molto meglio i processi all'interno di una cellula vivente e questo capite come al solito tutta la scienza parte da avere misure, dati sperimentali sempre più accurati e poi c'è qualcuno che si occupa di capire fare delle teorie e poi spiegare quello che sta succedendo quindi ci apre un mondo completamente nuovo questo era più o meno dieci anni fa adesso sono andato un attimo a vedere cosa c'è disponibile e queste sono alcune delle cose che stanno succedendo per cui sono riusciti a fare dei sensori basati su dei piccoli nanodiamanti che sfruttano le proprietà quantistiche dei singoli atomi dei diamanti li hanno iniettati in alcuni vermi vivi e riescono a fare misure all'interno di questi vermi con questi dettagli mostruosi oppure in Inghilterra stanno sviluppando questi tipi di sensori che sono talmente sensibili a micro variazioni dei campi elettrici per cui potete pensare di mettere un sensore fuori dal cranio e misurare le variazioni dei campi elettrici dei singoli neuroni nel vostro cranio e quindi passiamo da si fa già di misurare questo tipo di correnti ma dovete mettere una sonda all'interno della testa delle persone e chiaramente se riuscite a farlo da fuori capite da soli il vantaggio e questo è quello che stiamo avendo di possibilità Ora, siccome vale sempre la terza legge di Clark che è un noto scrittore di fantascienza che qualunque tecnologia abbastanza avanzata è indistinguibile dalla magia questa ovviamente e siccome se mettete su Google quantum trovate di tutto ecco il mio compito è anche dirvi che non dovete credere a una magia e se trovate qualcosa con su scritto quantum non vuol dire che si possa fare qualunque cosa se possiamo misurare appunto le attività celebrali ma non possiamo fare altri tipi di cose che trovate quindi questa è scienza e non fantascienza come diceva come diceva voi non l'avete mai vista ma qualcuno ha visto una famosa pubblicità di 30 o 40 anni fa anni 80 mi dice la regia ecco mettiamo un po' di basi scientifiche vi ho detto che tutto ciò e le differenze fra classico e quantistico si basano su due proprietà due effetti la coerenza quantistica e le correlazioni quantistiche che sono presenti solo nel mondo quantistico e non sono presenti nel nostro mondo nel nostro mondo di tutti i giorni e quello che cerco di fare adesso nei prossimi minuti è darvi un'idea intuitiva per quanto possibile e non è possibile proprio perché non abbiamo esperienza di tutti i giorni di cosa succede nel mondo quantistico la prima è il concetto di coerenza quantistica e per fare questo dobbiamo introdurre o dire diciamo specificare un attimo cosa si intende per misura e per stato tra fisici non è un concetto difficile l'idea è che quando abbiamo un sistema ha possibili stati differenti quindi può essere una levetta che sta qui o qui può essere un sistema che ha temperature diverse o qualunque cosa e voi volete misurarlo che vuol dire ottenere informazione su che stato in che stato il sistema è caso più semplice il bit è un bit è un qualunque sistema fisico che ha due stati che voi chiamate 0 e 1 e poi andate a leggere 0 o 1 in qualche modo qui abbiamo un esempio un po' diverso e il nostro stato il nostro sistema è una figura e la vostra misura che volete fare è misurare se queste persone sono tristi o felici avete due possibilità 0 e 1 tristi o felici e sono sicuro che guardandole tutti voi avete già classificato queste figure in tristi e felici quindi avete effettuato una misura ogni figura è o triste o felice una volta che la guardate avete ottenuto l'informazione a questa persona è triste a questa persona è felice avete fatto una misura il bit è in 0 o in 1 benissimo questa è un è un semplice è una misura classica nel senso che voi avete interagito tramite i fotoni che da lì hanno colpito i vostri occhi avete e avete classificato questi come felici e questa cosa rimarrà diciamo il risultato della vostra misura sarà sempre la solita anche se la ripetete cento volte non è che questa lei diventerà triste ora proviamo e facciamola nel mondo quantistico adesso vi do un'altra misura da fare e voi mi dovete dire se questa è triste o felice sapete benissimo l'avete riconosciuta tutta tutti sarebbe divertente capire per chi è triste e alzi la mano adesso nessuno per chi è felice ah però allora è una truffa e poi ci sono un po' incerti non so quello che si dice è che quando la guardate la vedete triste o felice e per avere un altro risultato dovete distogliere lo sguardo e riguardarla e alle volte la vedete triste o felice ok quindi questa è la cosa più vicina a uno stato di sovrapposizione quantistica nel mondo classico che io conosco perché è qualcosa che è contemporaneamente nello stato triste e felice e quando voi lo guardate il sistema vi dà una risposta triste o felice e questo è possibile semplicemente perché se adesso qui abbiamo abbiamo levato o meglio il collega ha levato tutti gli elementi che danno la tristezza e quindi questa la dovreste riconoscere sempre felice mentre questa la dovreste riconoscere sempre sempre triste ora la magia di Leonardo è che quello che ha fatto è di fare qualcosa che è una sovrapposizione coerente dei due stati bene questo effetto che è appunto chiaramente un esempio e che è molto difficile da riprodurre nel mondo classico è completamente naturale nel mondo quantistico è dato dalla natura noi sappiamo preso un qualunque atomo metterlo in uno stato sovrapposizione di due o n stati diversi quindi i fisici chiamano descriviamo gli atomi con quella che viene chiamata la funzione d'onda e usiamo questo simbolo qui e possiamo dire che questo è lo stato zero questo è lo stato uno e questa è lo stato sovrapposizione che viene scritto così di zero più uno e se voi guardate questo misurate questo sistema quantistico messo nello stato zero più uno il 50% delle volte lo troverete in zero il 50% delle volte lo troverete in uno con un caso in maniera probabilistica però questo è completamente diverso dal caso classico in cui io vi do col 50% di probabilità una persona triste o una persona felice è questo stato sovrapposizione che per esempio in un atomo è quello che viene chiamato in chimica un orbitale ibrido sp per chi gli dice qualcosa queste sono cose che si fanno in maniera rutinaria e che hanno delle conseguenze poi se se lo applicate alla manipolazione dell'informazione in maniera diciamo straordinaria la prima conseguenza di questa possibilità è quello che si è chiamato il famoso paradosso del gatto di Schrödinger Schrödinger un padre fondatore della meccanica quantistica si è subito reso conto una volta capito che un atomo possa essere messo in uno stato in cui è nello stesso momento nello stato fondamentale e in uno stato eccitato che abbiamo un problema perché potete pensare a questo esperimento in cui forse avete sentito parlare in cui in questa scatola c'è un atomo che è messo nello stato di sovrapposizione coerente nello stesso istante sia nello stato fondamentale che in uno stato eccitato ma se è in uno stato eccitato sapete che gli atomi a un certo punto decadono se decadono emettono un fotone io costruisco un apparato che se il fotone viene emesso dall'atomo colpisce questa levetta questa levetta libera il martello il martello rompe la fialetta la fialetta contiene un veleno il gatto muore purtroppo però questo è vero solo diciamo se l'atomo è eccitato se invece è nello stato di riposo non emetterà mai il fotone questa non cadrà questa non viene rotta e il gatto rimarrà vivo e allora com'è che facciamo questa cosa che abbiamo il gatto che nello stesso momento sia vivo che morto abbiamo un problema questo è il paradosso del gatto di Schrodinger adesso sappiamo che diciamo sappiamo molto di più sappiamo che diciamo questa è una è un esempio di di transizione dal mondo quantistico dove le sovrapposizioni sono possibili al mondo classico dove non sono possibili o meglio è molto difficile crearle posso mettere un elettrone che è nello stesso momento in questa stanza e in quell'altra stanza più difficile mettere me stesso in questa stanza e nell'altra stanza e questo è dovuto al fatto che l'ambiente circostante continuamente misura una misura non richiede un essere senziente un umano può essere un apparato quindi diciamo è molto difficile costruire delle sovrapposizioni macroscopiche quantistiche a livello diciamo classico quindi con tantissimi atomi il problema che abbiamo e che avremo è che un computer quantistico di cui sentirete parlare da ora in poi è esattamente un gatto di Schrödinger è un oggetto che ha tantissimi qubit quindi macroscopico e che però per funzionare deve essere messo in una sovrapposizione quantistica coerente esattamente non come un gatto vivo o morto ma comunque molto 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 complicato da costruire tecnologicamente e questa è proprio la sfida che abbiamo nei laboratori di tutto il mondo domande? troppe? e questo è solo all'inizio perché io ho detto che ci sono due proprietà la prima sono le sovrapposizioni coerente e la seconda sono le correlazioni quantistiche che sono diciamo una conseguenza delle sovrapposizioni coerenti per parlarvi di correlazioni quantistiche devo prima dirvi che cosa sono le correlazioni per un fisico e per fare questo devo ancora ricorrere al giochino delle figurine tristi e felici allora noi possiamo fare un gioco e il gioco è che io diciamo sono due giocatori un giocatore prepara col 50% di probabilità la figurina triste e con 50% di probabilità la figurina felice e la invia all'altro giocatore quindi questo vuol dire che diciamo io genero una stringa di 0 e 1 completamente casuale per esempio questa e questa è una stringa completamente casuale anche se non sembra ma lo è è un risultato possibile e questa la mando ad Alice quando parliamo di comunicazioni abbiamo sempre A che manda B e A diventa Alice nel Paese delle meraviglie e B diventa Bob Bob Marley allora diciamo io posso giocare a questo gioco e mando la mia stringa di tristi felici casuale ad Alice poi faccio lo stesso con Bob e prendo un'altra stringa e la mando di eventi casuali e la mando a Bob ok adesso Alice e Bob vedono sono in due laboratori diversi uno è sulla terra e uno è sulla luna non si possono parlare Alice e Bob Alice vede una stringa di bit casuali e Bob ha una stringa di bit casuali le due stringhe sono diverse indipendenti completamente scorrelate e quindi questi si chiamano eventi scorrelati io però potrei fare anche un'altra cosa siccome sono pigro siccome generare una di questi bit mi costa un sacco di soldi o per qualunque altro motivo potrei anche generare una stringa di bit casuali e poi la mando ad Alice e a Bob la stessa tanto loro non si parlano non lo sanno però quello che avremo è questo scenario adesso vedete cosa succede sia Alice e Bob vedono arrivare una stringa di 0 e 1 completamente casuali ma se si parlassero e si dicessero io ho ricevuto 0 anch'io ho ricevuto 1 anch'io e così via scoprirebbero che queste qui sono completamente la stessa stringa e se partissero con questa consapevolezza sebbene io ricevo una stringa di bit casuali che non conosco se so che a Bob viene mandata la stessa stringa quando io vedo la mia so qualcosa del sistema anche di Bob e quindi conosco qualcosa del suo sistema e questo è dovuto al fatto che abbiamo costruito queste due stringhe in maniera perfettamente correlata cosa vuol dire se ho questo gioco a questi tipi di giochi e ho dei sistemi correlati che se io guardo il mio sistema e so che è correlato con l'altro sistema posso imparare qualcosa dell'altro sistema guardando il mio in questo caso so esattamente la stringa poi ci sono tutte le vie di mezzo in cui questi sono un po' correlati e quindi posso imparare un po' dell'altro sistema ora perché vi racconto tutta questa storia che spero non vi abbia confuso perché quello che si trova ed è quello che facciamo in meccanica quanti uno può fare questa cosa con i sistemi classici o con i sistemi quantistici ancora una volta quindi farlo con gli atomi e fare quello che si chiama un esperimento di Bell di cui forse avete sentito nominare le famose disuguaglianze di Bell che è quello di cui vi sto parlando adesso quindi abbiamo per esempio un sistema quantistico che decade e emette due fotoni e ne mandiamo uno a Bob e uno ad Alice e questo è esattamente lo stesso giochino di prima il fotone può essere triste o felice polarizzazione orizzontale o polarizzazione verticale o qualunque altra cosa e Alice può fare le sue misure e Bob può fare le sue misure ora adesso se vi scrivete a fisica venite al terzo anno e seguite il mio corso di introduzione dell'atteria dell'informazione quantistica vi faccio tutta la matematica per dimostrare che se il sistema è classico sotto pochissime ipotesi si possono quantificare le correlazioni con dei processi che non vi descrivo ma che vi danno un numero alla fine fate delle misure manipolate un po' queste misure le sommate insieme e se il sistema è classico questo numero per forza a meno che non violate la teoria della relatività cosa che non pensiamo sia possibile deve essere minore di 2 per qualunque sistema classico qualunque cosa facciate non potete scappare qual è cosa succede succede che se invece di un sistema classico prendete un sistema quantistico e fate esattamente la stessa cosa questo numerino diventa maggiore può diventare maggiore di 2 può diventare maggiore di 2 esattamente quando voi avete un famoso i famosi se ne avete sentito parlare degli stati entangled gli stati intrecciati o gli stati di bell ora perché tutta questa cosa è rilevante a parte essere bellissima diciamo di per sé e i primi esperimenti diciamo su queste cose risalgono ancora nell'82 e l'anno scorso l'ultimo Nobel è stato dato per questi esperimenti per aver dimostrato proprio questa cosa qua quindi che la meccanica quantistica viola in maniera diciamo fondamentale le leggi della meccanica classica è diversa se avete più correlazioni quantistiche questo vuol dire che avete più correlazioni tra sistemi quantistici che tra sistemi classici e correlazioni vuol dire che se io guardo il mio sistema posso sapere qualcosa dell'altro sistema e quindi se sono più alte posso sapere di più e quindi questa cosa la possiamo usare per fare comunicazione e calcolo in maniera più efficiente in un modo che classicamente non può essere riprodotto quindi l'esistenza di correlazioni più forti ci permettono di essere più efficienti nelle comunicazioni e nel calcolo quantistico e c'era una domanda era una ok bene ora il mio tempo quanto io ho un quarto d'ora ancora direi che salterò questa relazione diciamo sempre per dirvi che questa scienza non è fantascienza questa diciamo la creazione di entanglement o dei gatti di Schrödinger è attualmente una sfida tecnologica e questo è un esperimento a cui sono molto legato perché abbiamo contribuito dal punto di vista teorico di un esperimento all'università di Harvard dove è stato creato il gatto di Schrödinger più grande del mondo nel 2019 ora sono andati oltre quindi avendo 21 atomi in una diciamo in uno stato entangled che all'epoca era il record mondiale bene ok e qui mi fermo prego grazie allora questo è un altro spoiler continuate a fare i spoiler adesso arriva il teletrasporto non so se è esattamente l'idea l'idea tua ma si può fare un qualcosa che si chiama il teletrasporto esattamente senza gatti vivi e morti quelli lasciamo da parte ma 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 assolutamente sì e questa è la prima la prima ok diciamo adesso smetto di introdurre concetti quindi diciamo il messaggio da portare a casa è che ci sono due cose fondamentali diverse tra la meccanica classica e la meccanica quantistica sovrapposizioni quantistiche e correlazioni quantistiche che sono più forti di quelle classiche e bene cosa ci possiamo fare cosa ci possiamo fare la prima cosa che è stata pensata è appunto il teletrasporto che non è ovviamente il teletrasporto di Star Trek perché non possiamo teletrasportare la materia però possiamo teletrasportare l'informazione quindi esattamente spostare il sistema o lo stato di un sistema quantistico che è presente in un laboratorio in un altro laboratorio che qui ci sono da fare molti distinguo non possiamo violare la teoria della relatività non c'è non c'è possibilità di trasmissione dell'informazione istantanea perché c'è comunque bisogno di farsi una telefonata per trasferire un beat classico però è un processo che è la cosa più vicina che conosciamo al teletrasporto qualcosa di simile abbiamo Kirk qui nell'altra stazione abbiamo un mucchietto di atomi pronto e questo diciamo la funzione d'onda lo stato di Kirk si distrugge in un mucchietto di atomi e il mucchietto di atomi di là diventa una copia esatta di quella persona nessuno crede che si possa fare con una persona ma si può fare con sistemi molto più semplici ed è stato fatto in laboratorio e addirittura per esempio qui sul lago di Ginevra vedete hanno Alice e Bob e hanno fatto il teletrasporto a distanze di svariate decine di chilometri e ormai è una cosa rutinaria potete comprare delle schede da mettere nei vostri computer classici in fibra che fanno questi tipi di protocolli un'altra cosa che può essere può essere può essere fatta è quella che viene chiamata la criptografia quantistica ora ne sentirete dopo meglio ma una delle prime applicazioni dei computer quantistici uno dei motivi per cui per cui come dire c'è stato l'interesse no mi dicono che no e quindi ve la racconto io uno dei primi diciamo momenti in cui i computer quantistici sono usciti dall'accademia è stato quando nel 92 Peter Shore ha fatto il suo famoso algoritmo di Shore che permette di rompere la criptografia classica che usate tutti i giorni quando mettete il pin o la vostra password su internet o al Bancomat il pin dovrebbe essere trasmesso criptato la password la criptazione avviene con un algoritmo che si chiama RSA che è uno standard dagli anni 70 e che si basa sul fatto che se prendete due numeri primi a 100 cifre e li moltiplicate insieme la moltiplicazione è molto facile perché vabbè sono 100 cifre ma sapete tutti l'algoritmo per farlo oppure prendete una calcolatrice e lo fate trovare i due fattori di due numeri del prodotto di due numeri primi a 100 cifre è un problema esponenzialmente difficile o meglio non conosciamo nessun algoritmo che possa farlo in tempo polinomiale per cui diciamo è considerato difficilissimo se volete trovare uno dei due fattori ci vogliano adesso per con il super computer più forte del mondo 10.000 anni quindi non lo fate semplicemente Shor ha mostrato che con un computer quantistico utilizzando la sovrapposizione l'entagra del quantistico questo problema diventa un problema polinomiale e quindi potete rompere tutta la tutta la criptografia classica con le conseguenze che immaginate e qui c'è diciamo la prima esplosione di finanziamenti a a questo tipo di a questo tipo di tecnologia c'è stata nel 92 quando un paio di colleghi sono stati chiamati sotto una montagna in un bunker negli Stati Uniti come come nei film in cui sono stati messi in una stanza con una quindicina di persone di cui non conoscevano l'identità e che gli hanno chiesto gli hanno chiesto ma cosa state facendo cosa potete fare e quando gli è stato detto che potevano fattorizzare l'RSA c'è stato un certo interesse perché craccare la 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 crittografia mondiale capite che dà un vantaggio competitivo notevole e la cosa più bella che è una lezione di vita e che pare che il collega che parlava mentre parlava come sto facendo io con voi mi ha detto che vedeva le facce di queste persone e capiva che li aveva persi perché stava era andato troppo sul tecnico e ha detto manzo ho detto qui non ne usciamo e poi il collega accanto gli ha detto due parole magiche che sono sì questo è complicato nel futuro è possibile non siamo sicuri ma non vorrete mica che ce l'abbiano prima gli inglesi che ci stanno lavorando e questo ha risolto il problema hanno staccato l'assegno e sono partiti ricordatevi sempre che per convincere qualcuno dovete mettere l'alternativa brutta davanti e funziona al 99% bene le tecnologie quantistiche potrebbero rompere la crittografia classica anche perché ora sono passati 30 anni e ne abbiamo fatta di strada la cosa buona è che abbiamo anche la diciamo la difesa e la difesa è la crittografia quantistica questi sono protocolli di crittografia inerentemente sicuri proprio perché usano la sovrapposizione quantistica di due stati di polarizzazione di fotoni e questa è una cosa attualmente realtà vedete qui c'è un esperimento di qualche anno fa fatto in fibra telecom a 400 km di distanza e potete comprarla e metterla sul vostro computer ed è quello che sta succedendo l'Europa sta mettendo l'European Quantum Backbone che è una fibra dedicata in tutta Europa proprio per fare comunicazioni quantistiche di questo tipo siete anche molto fortunati perché qui a Padova al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione avete c'è un gruppo pioniere in questo campo che ha fatto i primi esperimenti di comunicazione quantistica tra terra e spazio e per dirvi quanto appunto ormai questa sia già tecnologia ormai 5-6 anni fa la Cina ha messo su il suo primo satellite per telecomunicazioni quantistiche con cui ha fatto la prima videochiamata criptata quantisticamente tra Pechino e Vienna già appunto 4-5 anni fa perché Vienna perché il Zhang Weipan che è diciamo l'imperatore quantistico della Cina si è formato a Vienna dove c'è appunto Anton Zeinlinger premio Nobel di quest'anno per queste cose era un postdoc lì poi è tornato in Cina e ha fatto partire tutti i processi bene abbiamo parlato di sensori quantistici abbiamo parlato di comunicazioni quantistiche ci abbiamo altri due pilastri delle tecnologie quantistiche il primo sono le simulazioni quantistiche cosa si intende per simulazioni quantistiche sono sicuro che voi siete abbastanza esperti di simulazioni di questo tipo e non so quanto farvene vedere per svegliarvi un po' questa è bella e la prossima forse ancora più bella questa è bellissima ovviamente non facciamo questo tipo di simulazioni quando giochiamo a pallone pure però quando invece lavoriamo per simulazioni si intende questo tipo di simulazioni anche classicamente se voi andrete a lavorare nell'ingegneria aerospaziale alla formula 1 o in posti dove dovete ottimizzare l'idrodinamica per rendere la vostra macchina o il vostro aereo molto più performante potete prendere il vostro sistema scrivere delle equazioni terribili e provare a risolverle in due anni su un super calcolatore oppure cosa fate fate un modello che simula in scala quello che volete ottimizzare e quindi poi prendete e fate la vostra macchina la mettete nel tunnel del vento e vedete com'è la dinamica quindi cosa fate fate un sistema che simula quello che volete simulare capite che se noi vogliamo studiare un buco nero è complicato accederci e soprattutto riprodurlo però possiamo farlo con quelli che vengono chiamati simulatori quantistici che sono dei computer quantistici dedicati che fanno solamente un certo tipo di problemi per esempio si potrebbe e si sta facendo costruire delle macchine che riproducono i processi chimici in maniera controllata in laboratorio così per esempio da aiutare lo sviluppo di nuovi farmaci per non passare da tutto lo sviluppo medico che funziona ma è altamente altamente dispendioso un'altra cosa che è molto cara a questo dipartimento è tornare all'idea originale vi ricordate se è un partito al fatto che Feynman ha detto vogliamo simulare problemi di alta energia di particelle elementari ci vorrebbe un computer quantistico cosa abbiamo fatto negli ultimi 50 anni tra l'altro in maniera eccelsa e con molto successo abbiamo costruito delle macchine molto 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 complicate che richiedono decenni miliardi di investimento e migliaia di persone che lavorino per vari anni al CERN di Ginevra e quello che si spensa è che potremmo rimpiazzare l'anello del CERN forse per certi aspetti con un banco ottico in cui riproduciamo alcuni aspetti della fisica fondamentale delle particelle dei buchi neri eccetera eccetera e con quindi questi sono i simulatori e poi abbiamo i computer quantistici il computer quantistici è proprio l'idea di costruire una macchina che possa fare tutti questi algoritmi di cui vi ho parlato e altri di cui sentirete siamo ancora a livello pre-silicio quindi non sappiamo ancora non abbiamo il transistor non sappiamo ancora quale sarà l'architettura con cui costruiremo i computer quantistici e o se ce ne sarà una sola attualmente ci sono almeno tre diversi tipi di implementazioni che sono esplorati quelle forse più famose al pubblico che sono i superconduttori sviluppati da Google dall'IBM e da altre aziende ci sono gli atomi di Rydberg e gli ioni gli ioni intrappolati gli ioni intrappolati dove per trappola si intende questo no l'idea è che voi prendete gli ioni quindi i singoli atomi carichi elettricamente siccome sono carichi elettricamente potete mettere dei campi elettrici e magnetici e farci una trappola metterli e ora qui purtroppo si vede male ma vedete che questi singoli pallini qui ognuno è un singolo atomo e noi siamo in grado di posizionare a piacimento e poi manipolare per fare conti proprio esatto in maniera molto simile a quello che fate con i computer classici ormai non lo vedete più ma sapete benissimo che quando fate click sullo schermo tutto alla fine viene ricondotto a degli 0 e 1 che cambiano di stato beh questo ognuno di questi pallini codifica 1 0 e 1 1 e questo tipo di implementazione è anche molto rilevante perché qui a Padova abbiamo appena fatto partire un progetto finanziato dall'università di Padova e dall'INFN che porterà un copio del quantistico a ioni trappolati qui a 100 metri da qui stanno costruendo il laboratorio quindi se qualcuno di voi verrà qui forse per quando vi lavorerete potrete andare in laboratorio e costruirlo o contribuire o utilizzarlo per farci qualche tipo di algoritmo e un ultimo flash che cosa ci si può fare si può craccare l'RSA ma si possono fare anche cose molto molto pratiche per esempio qui la Volkswagen sta utilizzando gli algoritmi quantistici per ottimizzare il traffico a Lisbona oppure tutti voi avrete sentito dell'intelligenza artificiale e del machine learning beh se avessimo un computer quantistico potremmo fare quello che si chiama il quantum machine learning che promette di essere ancora più potente dell'intelligenza artificiale che sta cambiando la nostra vita ancora una volta perché può utilizzare questi due strumenti che non sono presenti nel mondo classico e che invece sono armi a disposizione dei computer quantistici e direi che con questo finisco quello che ancora una volta tecnologie quantistiche sono computer sensori comunicazioni simulazioni ed è quello che stiamo facendo con uno sforzo collettivo a livello continentale e industriale e mondiale e con questo vi ringrazio per l'attenzione grazie mille se all'epoca mi avessero raccontato queste cose così meccanica quantistica sarebbe stata un'altra storia ecco grazie allora se ci sono domande proprio pressanti facciamo una possiamo fare adesso direi poi magari facciamo il secondo seminario e facciamo tutte le domande dopo però ho visto che c'è qualcuno che sta proprio no eccola ma la tecnologia degli ologrammi può essere creata sfruttando la meccanica quantistica o sta andando un po' fuori strada bellissima domanda non lo so no nel senso per certi versi c'è qualcosa di non ho mai non sono a conoscenza di quantum holograms per certi versi ci sono dei contatti ma non non credo che insomma buona domanda per una testa ok poi altre domande ne possiamo fare dopo appunto il secondo seminario ci sarà del tempo adesso mentre facciamo il cambio qua del pc vorrei passare la parola a Giulio Peruzzi il vice direttore del dipartimento di fisica e astronomia che vi porta i saluti a nome di tanti direttori di due direttori scusatemi mi scuso con voi ragazzi e con i docenti presenti ma c'è stato un qui pro quo ho saputo di oggi stamattina e ho pensato che dovevo farlo lo stesso giorno delle olimpiadi europee delle scienze sperimentali cioè domani e quindi ho fatto confusione quindi due in un giorno ero sicuro che fosse così ma mi sono sbagliato allora sì io porto i saluti sia di Flavio Seno che è il direttore del dipartimento di fisica e astronomia di cui quest'aula è l'aula magna e di Roberto Carlin che è il direttore della sezione pradovana dell'istituto nazionale di fisica nucleare l'INFN che per varie ragioni Flavio Seno è proprio malato Roberto credo abbia impegno sia al CERN non potevano essere qui questa iniziativa oramai ha 21 anni quindi come si osservava a più della vostra età questa delle giornate fermiane va bene credo che sia un'iniziativa importante su questa questione delle tecnologie quantistiche sentirete vari interventi nei corsi dei prossimi anni perché Padova in particolare il dipartimento di fisica e astronomia ma come diceva Simone Montangero ha ricevuto enormi finanziamenti finanziamenti milionari per fare varie cose il computer quantistico di cui vi parlava nelle ultime slide Simone Montangero è la frontiera diciamo realizzativa di alcuni aspetti ma noi come dipartimento di fisica e astronomia è la seconda volta che otteniamo la qualifica di dipartimento eccellente parola secondo me abusata in Italia però in questo caso diciamo noi siamo stati valutati abbiamo seguito e per l'appunto nei prossimi cinque anni ci occuperemo del quantum declinato in tutte le possibili forme dalle forme teoriche a quelle sperimentali colgo solo una delle moltissime suggestioni che c'erano nell'intervento di Simone che credo ci saranno in quelle di Silvia che però è più preoccupata perché ha un'età più vicina alla vostra e quindi è molto agitata però fatevi domande difficilissime così la mettete benissimo però ecco una cosa è questa pensate a questa cosa qui la fisica delle particelle elementari quella che si chiama fisica delle alte energie a Padova ha una tradizione lunghissima viene da Bruno Rossi è stata come diciamo Roma è stata il centro della fisica nucleare Padova è stata proprio con Bruno Rossi il centro della nascita della fisica delle particelle poi ovviamente tutto allora oggi ci sono dei limiti ma dei limiti anche tecnologici per costruire acceleratori che facciano indagini dell'ultrapiccolo come quelli al CERN sono macchine che dovrebbero cominciare ad avere per essere competitive aumentare gli ordini di grandezza con cui si va a vedere l'ultrapiccolo avere centinaia e centinaia di chilometri di diametro non sono macchine che si costruiscono in un giorno nel frattempo cosa si cerca di fare si cerca di fare ricerche in fisica delle alte energie a tavolino di banco va bene che è una delle cose che vi dicevo quindi questa sarà una delle prospettive importanti è tutta propaganda ma per il nostro dipartimento iscrivete se volete iscrivervi a fisica non andate a cercare quelle oramai ci sono tutti questi ranking in cui si dice l'università tale è così l'università tal'altra allora questo ve lo dico per tutti i tipi di laurea naturalmente poi noi siamo interessati alla fisica e all'astronomia intanto fate la triennale qui l'università di Padova è ottima per quanto riguarda la fisica e all'astronomia è ottimissima va bene se non fosse uno sbaglio in italiano va bene e questa è una veramente delle frontiere dei prossimi anni e appunto nel cosiddetto dipartimento d'eccellenza sono 5 anni noi avremo quasi 10 milioni di finanziamento per 5 anni va bene quindi insomma sono veramente grandi prospettive che si aprono chiudo la parentesi e chiudo anche il mio intervento è troppo lungo dicendo le cose di cui vi ha parlato Simone Montangeli vi parlerà ora anche Silvia giusto Ilaria scusa Silvi Siloi c'era un Silvia però no è un Siloi no ma scusa Ilaria scusa 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 le cose di cui ha parlato poco più di 100 anni fa erano un dibattito quasi filosofico tra fisici e non tra filosofi Einstein Bohr che nel 35 quando Schrödinger propone il gatto discutevano se la Ken se la descrizione fisica della realtà fatta dalla meccanica quantistica è o non è reale Ken quantum mechanical description of physical reality possible non mi ricordo ora l'articolo sono due articoli che si ebbene quella è una discussione che anche la comunità scientifica dell'epoca considerava filosofica il gatto di Schrödinger che è una nota a piedi pagina fatta in un articolo di Schrödinger nel 35 erano questioni quasi da dileggiare ebbene queste questioni qua filosofiche sono diventate lo sviluppo delle moderne tecnologie cioè la curiosità con cui lo scienziato deve porsi di fronte al reale fa sì che questioni che apparentemente non hanno nessuna implicazione applicativa nel giro di poco più di 100 anni anzi poco meno se parliamo solo del 35 diventano frontiere applicative importantissime e c'è un bel libro che ancora forse non potete leggere perché è un po' complicato ma non tantissimo insomma però lo indico ai vostri professori se non l'hanno visto forse sì che si chiama l'autore è Kaiser e si chiama come gli hippie hanno salvato la fisica va bene perché le disuguaglianze di Bell furono proposte da Bell negli anni 60 ma anche quelle nessuno se le filò molto fino a che negli anni 80 82 83 Aspect Grandje Roger e poi molti altri hanno fatto esperimenti per verificare la violazione di quel 2 magico va bene chi ha rinvigorito le ricerche su questo campo sono un gruppo di pazzi va bene in larga parte pazzi hippie con vari addentellati con cose che grandi fisici dell'epoca pur anche loro non particolarmente ortodossi ma dicevano con quelli è meglio non aveva a che fare Wheeler o altri però sono quelli che di fatto hanno dato poi dagli anni 80 in poi vigore a questo settore che oggi è davvero una delle frontiere della ricerca scientifica a livello mondiale grazie e scusate per il qui pro quo grazie grazie Giulio allora adesso passo la parola a Ilaria Siloi ricercatrice da un anno giusto qui al Dipartimento di Fisica e Astronomia esattamente un anno e sarà giovane ma già un'ampia esperienza di ricerca alle spalle è stata partita dall'Italia è stata in Finlandia e negli Stati Uniti e quindi direi che diciamo qualcosa avrà da raccontarci sicuramente e oggi ci farà un'introduzione al Quantum Coding a te grazie mi sentite ok salve a tutti sì io mi occupo esattamente di queste cose quindi di computazione quantistica sono arrivata qua a Padova un anno fa e lavoro nel gruppo diretto del professor Montangero e questi sono appunto alcuni diciamo alcuni dei temi che trattiamo quotidianamente e una delle ragioni per cui ci interessano sono è che la computazione quantistica è proprio un luogo in cui non solo i concetti che prima il professore vi ha raccontato trovano un'applicazione quindi c'è un'applicazione per il concetto di sovrapposizione quantistica e per il concetto di entanglement quantistico ma vengono proprio utilizzati come una risorsa per favorire per rendere la computazione più efficiente però più efficiente di cosa? più efficiente è la computazione classica quindi per cominciare per farvi un'introduzione sulla computazione quantistica a questo punto partiamo dall'inizio cioè partiamo dalla nascita dell'informatica e partiamo dalla nascita della computazione classica che viene datata un poco più di cento anni fa cioè anzi poco meno di cento anni fa siamo all'inizio del novecento e i computer i device che utilizzate adesso i telefonini si basano su un'idea che è quella della macchina di Turing del 36 l'idea qual è? è un'idea astratta di di un agente cioè di qualcosa che fa che compie dei calcoli e che possiamo programmare e ma che calcoli compie? compie tutti i calcoli possibili cioè è un modello per un calcolatore universale e questo modello di Turing la macchina di Turing soddisfa quella che si chiama che qua ho chiamato in maniera pomposa perché è il suo nome oggettivo la tesi di Church Turing ovvero che qualunque cosa che è per noi calcolabile che vuol dire qualunque funzione che possiamo scrivere in termini di un algoritmo può essere calcolata utilizzando una macchina di Turing ma praticamente che cos'è una macchina di Turing? un primo esempio di questo viene dato da questo nastro infinito un nastro infinito che rappresenta la nostra memoria e che possiamo scorrere e possiamo scorrere una testina su questo nastro possiamo compiere alcune operazioni fondamentali che se ripetute ci permettono in un numero finito di step di calcolare una qualsiasi quantità quindi nasce l'idea di qualcosa che ci permette di fare un calcolo di una qualsiasi quantità calcolabile bene qualche anno dopo questi concetti che sembrano molto astratti sono comunque astratti ancora ma vengono utilizzati per avere un design un'architettura di un calcolatore di un computer che resiste sino al giorno d'oggi cioè in ogni calcolatore noi in ogni computer noi abbiamo rispetto la cosiddetta architettura di von Neumann cioè abbiamo la CPU che fa diciamo gestisce l'aritmetica i calcoli base e le istruzioni fondamentali che vengono compiute dal nostro calcolatore comunica con la memoria comunica fra se stessa fra le sue due i due sottocomponenti e prende un input e restituisce un output questo era così è stato pensato nel 45 e a tutt'oggi funziona ancora nello stesso modo sempre negli stessi anni tutti questi che sono concetti ripeto molto teorici vengono poi attuati viene costruito l'hardware viene costruito l'implementazione fisica che poi ci permette di sviluppare tutte queste idee che è il transistor e siamo nel 47 ora queste veramente sono cose che sicuramente avete visto anche in classe ma vi rinfresco rapidamente perché le rivedremo poi nell'ambito del calcolo quantistico cioè la nostra computazione classica si basa sui bit su delle variabili che possono prendere due valori sono binarie quindi o prendono il valore 0 o prendono il valore 1 e qualunque funzione che è calcolabile da un calcolatore viene fa diciamo viene calcolata operando delle operazioni facendo delle operazioni logiche su questi bit e queste operazioni logiche vengono implementate vengono vengono fatte attraverso delle porte logiche le porte logiche che cosa sono? sono anche questi degli oggetti fisici che implementano una logica cioè in altri termini io ho due bit in ingresso ho un bit in uscita che corrisponde il cui risultato è dato dalla logica che voglio implementare per esempio per esempio supponiamo il caso più semplice è il caso al singolo bit io ho un not che significa che entra un bit che ha un certo stato esce un bit che è la negazione di quello stato uno e uno nel caso invece dei bit nel caso invece delle porte logiche a due qubit a due bit entrano due segnali e ne esce solo uno che è positivo o negativo a seconda del fatto che venga verificata quell'espressione logica o meno la cosa interessante è che qualunque operazione logica qualunque qualunque funzione che vogliamo calcolare la possiamo sempre scrivere in termini di queste porte logiche la cosa che è ancora più interessante e lo vedremo poi perché è che ci basta saperne fare alcune per poter calcolare qualunque funzione e questo è quello che è il concetto dell'universalità cioè sapere fare praticamente implementare attraverso i nostri transistor un processo logico anche tipo questo NAND ci permette di calcolare una qualunque funzione l'ultima cosa che vi dico della computazione classica è questo è che è il concetto di reversibilità ovvero prendiamo una qualunque porta logica a due che agisce su due bit come potete vedere entrano due bit ma ne esce solo uno quindi cosa succede è vero che io sto calcolando qualcosa ma perdo traccia di quello che è successo all'inizio è irreversibile nel senso che dall'output non posso mai tornare indietro è come se avessi rimosso parte della mia informazione e in questo senso appunto si chiama irreversibile ora ora che abbiamo rinfrescato questi concetti ci interessa sapere come mai arriviamo alla computazione quantistica cioè alla fine dei conti i nostri pc funzionano benissimo sappiamo fare un sacco di cose la tecnologia sta andando avanti tutto quello che vediamo oggi è frutto di tutto quello che è stato fatto quindi non si capisce perché dobbiamo cambiare paradigma questo ve l'ha detto anche prima il professore lo riprendo perché è importante cioè dal 1960 ogni due anni la potenza di calcolo di qualunque dei vostri processori del vostro computer era addoppiata ma era addoppiata mantenendo il costo di produzione costante quindi vedete questa cosa è vera è stata vera ed è stata vera fino a poco tempo fa perché qua negli ultimi 15 anni si sta raggiungendo quello che si chiama un plateau cioè non aumenta più ok e questo è un problema ed è un problema che ha delle radici delle radici che vengono dalla fisica ed è questo il punto è che per aumentare la potenza di calcolo io sto raddoppiando tutti ogni due anni il numero di transistor che ho dentro il processore se aumento il numero di transistor questi transistor sono più vicini e adesso nelle scale attuali i nostri transistor sono minori hanno dimensioni ridottissime ed adesso Intel sta lavorando ai 3 nanometri ok a 3 nanometri non sono più oggetti classici la fisica classica a quel punto la natura quantistica della materia viene fuori e dobbiamo imparare a farci conti che vuol dire dobbiamo imparare per esempio a sfruttarla anziché vivere questa cosa come un impedimento l'altra cosa è che ridurre le dimensioni comporta dei costi quindi non solo non riusciamo più ad aumentare il numero di transistor che ci sono nel nostro processore senza tener conto degli effetti quantistici ma per costruire quel tipo di processori servono dei processi che si chiamano di nanofabbricazione perché siamo alla nanoscala che sono molto più costosi di quelli che servivano prima quindi queste diciamo se volete sono delle ragioni pratiche che hanno portato allo sviluppo di due idee una è quella dei simulatori quantistici di due idee che appunto sono i simulatori quantistici e il computer quantistico universale siamo negli anni 80 e sono in 82 85 vengono praticamente sviluppate assieme e l'idea appunto quella di Feynman è esattamente di dire una delle cose che facciamo quotidianamente con i nostri computer è simulare la natura simulare la natura delle scale anche molto piccole in cui gli effetti quantistici non si possono trascurare e se io sto simulando qualcosa di quantistico con un computer classico inevitabilmente lo faccio in maniera poco efficiente quindi perché non avere un oggetto quantistico che so controllare che so controllare e gli so far imitare un processo quantistico che per me classicamente diventa dispendioso descrivere parallelamente viene sviluppato l'idea del computer quantistico universale che se volete riprende quello che abbiamo detto all'inizio partiamo di nuovo dalla macchina di Turing ma è una macchina di Turing che rispetta le leggi della meccanica quantistica e ci permette di simulare qualunque processo fisico l'idea è che ho un computer quantistico generale che risolve in maniera più efficiente i processi che un computer quantistico risolverebbe in moltissimo tempo ok bene dal bit passiamo all'unità di informazione quantistica che è il qubit non cambia moltissimo mi direte sono 0 e 1 come nel caso classico 0 e 1 però qualcosa cambia quello che cambia è che quando io ho un qubit non ho solo 0 e 1 posso stare in sovrapposizione il qubit ha questa proprietà che vi ha descritto prima il professore per cui io posso metterlo posso posso mettere nel senso che sto già pensando di sapere manovrare da fuori lo stato come sperimentale lo stato del mio qubit posso mettere il qubit in una sovrapposizione di 0 e di 1 ovvero ho una certa probabilità di trovare il qubit in uno stato e una 0 e una certa probabilità di trovarlo nello stato 1 ok questo è verissimo bello ci piace ma quanti stati ho classicamente ne ho due ho lo stato 0 e ho lo stato 1 quantisticamente io il mio qubit sta in infiniti stati in infiniti stati di sovrapposizione di 0 e di 1 e quindi mi potrebbe venire il dubbio ma è diverso il contenuto di informazione che ho in un bit classico rispetto al contenuto di informazione che ho in un qubit ecco la risposta ve l'ho data qua l'ho fatto lo spoiler anch'io di me stessa e no un qubit codifica la stessa informazione classica perché è vero che lo posso mettere in una sovrapposizione di stati però a un certo punto per capire in che stato è lo devo misurare e quando lo misuro con l'assa la funzione d'onda con l'assa e quindi ottengo il mio solito bit di informazione ok questo non è molto sembra che ci stiamo perdendo qualcosa no? vedremo dopo come sfruttare come sfruttare questa sovrapposizione dove entra la sovrapposizione e l'altra caratteristica che vi ha precedente l'intengono è quantistico facciamo un altro esempio cosa succede quando ho due qubit quando ho due qubit gli stati classici di due qubit ecco sono sono quattro 0 0 0 1 1 0 1 1 1 però pure questo lo posso mettere in una sovrapposizione e ho un'infinità di questi stati cioè alfa beta gamma e delta possono prendere infiniti valori posso costruire infiniti stati però alla fine devo misurare i due qubit e quindi alla fine avrò una sola bit string stringa di bit avrò due bit di informazione esattamente come nel caso del single qubit come si manipolano? cosa che operazioni posso fare con un qubit? posso fare delle porte logiche dei qubit che sono a singolo qubit e a due qubit ci sono quelle classiche quindi c'è il not che abbiamo visto già prima passo dallo stato 0 allo stato 1 però c'è un'altra porta che classicamente non esiste si chiama adamard e crea la sovrapposizione cioè parto da uno stato di input che è lo stato di input del mio qubit applico questa operazione questa porta logica e costruisco la sovrapposizione lo stato non è più né in 0 né in 1 e questo è un gate è una porta logica che abbiamo solo nel caso quantistico cosa succede nel caso due qubit possiamo generalizzare tutte le porte che abbiamo visto prima che vi ho vagamente elencato land lore ma in particolare ne ho un'altra anche questa è una generalizzazione di una porta classica si chiama control not ma c'è una particolarità che se applicata opportunamente con alcuni gate classici mi permette di costruire uno stato che è quantisticamente correlato quindi comunque in questo pannello vi ho riassunto qual è la fondamentale differenza fra il calcolo classico e il calcolo quantistico nel calcolo quantistico riesco a creare sovrapposizione e correlazioni e stati che sono correlati quantisticamente il resto è ho anche qui un set universale di gate cioè posso scrivere voglio calcolare una funzione questa funzione la posso calcolare utilizzando alcune sequenze finite di certi tipi di gate in particolare mi basta saper fare mi basta saper operare sul singolo qubit e mi basta sapere fare questo gate qua a questo punto posso generare qualunque algoritmo qualunque algoritmo che mi permette di calcolare qualunque funzione calcolabile qual è un'altra differenza un'altra differenza è questa qui se guardate il numero di input è sempre uguale al numero di output nel singolo qubit e vabbè ovviamente e anche nel caso del cnot e è vero sempre in realtà non è non è un caso nella computazione quantistica il numero di diciamo fili che entrano il numero di qubit di input è sempre uguale al numero di qubit in output e questo significa che posso sempre tornare indietro se dall'output posso ritornare indietro allo stato iniziale quindi la mia computazione è reversibile non dissipo informazione in linea di principio non dissipo energia a questo punto a questo punto siamo in un certo senso pronti per dire che cos'è un computer quantistico un computer quantistico contiene tanti qubit è un sistema molti qubit che noi sappiamo noi sperimentali noi utilizzatori lo sappiamo fare evolvere in maniera controllata cioè sappiamo applicare a questi qubit tutta una serie di gate le porte logiche che abbiamo visto in precedenza lo sappiamo fare in maniera controllata controllata cosa significa che le proprietà quantistiche di quello stato rimangono tali durante l'evoluzione durante l'applicazione di queste porte quindi mantengo la coerenza mantengo la sovrapposizione e sfrutto queste due cose la coerenza e la sovrapposizione per calcolare in maniera efficiente in maniera efficiente perché perché immaginate che quando io ho gli algoritmi a cui sto pensando che non vi descriverò perché sono abbastanza complicati sono molto complicati sfruttano questa idea qua io ho il qubit prendiamo il singolo qubit che può stare in zero in uno però so metterlo in una sovrapposizione gli applico un adamard applico un gate specifico e a quel punto è in una sovrapposizione cosa ho di più rispetto al caso classico rispetto al caso classico è come se io stessi processando tutta l'informazione nello stesso momento quando ho un qubit in sovrapposizione sto facendo processare gli input in modo parallelo questo si chiama parallelismo quantistico e nasce proprio da questo fenomeno di sovrapposizione che abbiamo solo nel caso quantum ora praticamente che cosa abbiamo questo è una rappresentazione del nostro circuito quantistico quindi questa è la nostra freccia del tempo parto a tempo zero ho i miei qubit che sono in un certo stato zero uno e comincio ad applicare una serie di gate uno in seguito all'altro questi gate mi permettono di calcolare una certa funzione o di svolgere un certo algoritmo appunto nel tempo li applico in successione mantenendo lo stato dei qubit uno stato quantistico come faccio a saper se alla fine il mio calcolo ha funzionato se l'algoritmo ha implementato quello che per cui è stato creato lo misuro lo misuro lo stato non è più quantistico alla fine ottengo uno stato classico ottengo una stringa di bit ma quella stringa di bit codifica il mio risultato e perché lo fa? perché ho costruito l'algoritmo proprio perché succeda questo sfruttando la sovrapposizione e la coerenza quindi la sovrapposizione e la coerenza vengono sfruttati nell'evoluzione nella costruzione dell'algoritmo è lì che ho il vantaggio è lì che creo il vantaggio quantistico alla fine ho comunque una stringa di bit esattamente come avrei nel caso classico posso chiedere potrebbe come avere il calcolo parallelo attuale e il computer attuale tra parte di un'alto attuale sì l'idea può essere questa sì potrei fare le stesse cose con le macchine classiche però tantissime sì tantissime nel senso nel senso che a un certo punto non basterebbero più perché comunque non ho abbastanza spazio abbastanza però l'idea è questa sì bene ok benissimo questo è tutto molto teorico alla fine però ci servono dei sistemi fisici in cui fare tutto questo al momento ne abbiamo più di uno perché appunto come vi raccontava prima il professore non è come nel caso classico non abbiamo già scelto che piattaforma utilizzare e non sappiamo neanche se ce ne sarà solo una abbiamo diciamo i modi in cui riusciamo a codificare il qubit possono essere per esempio gli stati lo stato fondamentale lo stato uno certo stato eccitato di un atomo di un atomo neutro o di uno ione e questi stati come dicevo riusciamo a manipolarli cioè dall'esterno sperimentalmente riusciamo a mettere il singolo atomo in una sovrapposizione a farlo evolvere in un certo modo ok questo per quello che riguarda appunto il caso degli atomi poi però abbiamo anche circuiti superconduttori che ci aiutano a codificare i qubit e lavorano superconduttori cosa vuol dire che al di sotto di una certa temperatura ci sono dei materiali che hanno una corrente che non sperimenta la resistenza e diciamo possiamo immaginarci appunto correnti che girano in un verso in un altro e questo poi è un modo veramente molto brutale di immaginarci i due livelli del qubit 0 e 1 nel caso di qubit superconduttivi qual è un vantaggio dei qubit superconduttivi? che esistono dei chip come quelli come diciamo quelli classici quindi c'è già una perché sottolineo questo aspetto perché quando abbiamo un chip diciamo ci aspettiamo che questo chip sia in un certo senso riproducibile riusciamo già a farne di diversi che però sono in un certo senso tutti uguali mentre qua per quello che riguarda gli ioni e gli atomi siamo ancora a uno step precedente cioè non c'è ancora una c'è la riproducibilità ovviamente dei risultati però non c'è una tecnica di fabbricazione che è identica per tutti e poi abbiamo circuiti fotonici quindi l'altro grado di libertà sono le polarizzazioni del fotone questi fotoni vanno all'interno di guide d'onda e questi diciamo a seconda di come sono queste guide d'onda stiamo implementando un algoritmo o un altro ok non solo ci sono i sistemi fisici ma ci sono proprio quanto un computer basati su quei sistemi fisici questi ne sono ne ho presi solo alcuni quindi sono tutte cose che esistono questa è una cosa che fino a 15 anni fa non era così però a questo punto ci potremmo chiedere a che punto siamo ok c'è tutto questo ma in che senso cioè nella nostra quotidianità però non usiamo ancora computer quantistici perché? beh perché la nostra fase in cui siamo in questo momento è questa è quella dei noise intermediate scale quantum computers cioè quelli che vi ho fatto vedere sono sì quantum computer cioè sono computer dove abbiamo dei qubit che evolvono in maniera coerente però innanzitutto hanno pochi qubit ne hanno fra le decine qualche centinaia punto secondo sono difficilissimi da controllare quindi sono mantengono le proprietà quantistiche solo per un certo periodo di tempo o meglio solo per un certo numero di operazioni logiche quindi io ho tanti errori faccio tanti errori quando implemento queste porte logiche faccio un errore ogni mille porte logiche quando va bene o un errore ogni cento porte logiche cosa vuol dire fare un errore? se faccio un errore non solo non ho il risultato che mi aspetto ma magari questo errore deriva dal fatto che ho del rumore intorno e quindi è come se io stessi misurando il mio stato e quindi il mio stato non è più coerente il mio stato diventa uno stato classico e quindi perdo tutto quello per cui ho lottato perdo la sovrapposizione e la coerenza che mi dovrebbe dare l'efficienza rispetto al caso classico e a quando ho delle porte logiche che sono così rumorose non riesco neanche a implementare degli algoritmi che si chiamano error correction che non vi racconto perché sono però hanno sono potentissimi perché mi permettono di correggere gli errori che ci sono durante l'evoluzione senza però perdere le proprietà quantistiche dello stato quando ho questo tipo di errori non mi è possibile farlo perché quando anche avessi protocolli di error correction non mi bastano per per correggere tutto quello che sta succedendo nella macchina ok quindi una possibile diciamo che una delle strade che si è presa al momento è di utilizzare degli algoritmi che diciamo non sono l'algoritmo di Shore che vi ha raccontato prima il professore perché al momento appunto non riusciamo a implementarlo ma sono degli algoritmi ibridi classici e quantistici allora cosa vuol dire che penso al computer quantistico non come un computer classico che risolve qualunque problema il computer quantistico risolve bene un tipo di problema o alcuni tipi di problemi e quindi che faccio a fianco al computer quantistico un computer classico che ha più memoria che è efficiente per tante cose ma che è inefficiente per risolvere uno specifico problema e quindi il mio computer classico dà al computer quantistico certi parametri di input il computer quantistico fa quello che vi facevo vedere prima implementa l'algoritmo misuro misuro la mia bitstring la misura del circuito diventa l'output del computer quantistico per il computer classico e si ricomincia quindi questo è un tandem fra un computer classico e un computer quantistico è quello che adesso si sta facendo e quello che adesso funziona ma non solo questo si scala l'idea è proprio questa che noi adesso abbiamo dei computer classici che sono molto potenti abbiamo dei super computer non so se voi sapete cosa sono penso di sì forse sono dei computer che contengono hanno una grande capacità di calcolo e pensate che qualche mese fa a Bologna al Cineca hanno installato il quarto super computer più potente al mondo questo super calcolatore fa 15 per 10 fa nell'ordine di 10 alla 15 operazioni al secondo si chiama Leonardo e l'idea è che presto arrivi anche un computer quantistico che si chiama Pascal è un computer ad atomi neutri quelli che vi facevo vedere prima e questi due lavoreranno in tandem esattamente come funziona come vi facevo vedere la slide precedente ok però qual è un tipo di problema su cui quali problemi sono interessanti al momento quali problemi riusciamo o vorremmo affrontare con un quantum computer allora un tipo una classe di problemi che sono interessanti sono i problemi di ottimizzazione allora questa è una dicitura abbastanza vaga vaga nel senso che racchiude tanti tipi di problemi ma l'idea fondamentale è che ho una funzione di cui devo trovare il minimo una funzione costo di cui devo trovare il minimo bene ci sono una serie di tanti problemi attuali possono essere mappati possono essere scritti come problemi di ottimizzazione per esempio il problema del traffico che è quello che voi chiedete a google tutte le volte che volete andare da un post a un altro partite da un post a volete andare al post b nel minor tempo possibile google cosa fa risolve un problema di ottimizzazione o c'è ottimizza vi trova il percorso migliore la strada migliore migliore nel senso che ha e richiede il tempo minimo quindi la funzione che sto minimizzando costo è il tempo però se ci pensate un attimo voi avete un sacco di modi per andare dal post a al post b avete tante configurazioni che potete testare ok e queste configurazioni nei problemi di ottimizzazione discreti che sono problemi combinatori queste queste combinazioni scalano esponenzialmente quindi il mio algoritmo di google maps di google cosa fa ha ipoteticamente un numero esponenziale di configurazioni da testare tutte le volte quindi l'idea è che ci sono dei metodi l'idea è di utilizzare degli algoritmi quantistici che mi permettono di usare il principio di sovrapposizione e di processare tutte queste combinazioni contemporaneamente e di arrivare più efficientemente al minimo globale della mia soluzione ovviamente ok ci sono tanti caveat però la raccontiamo questo è il modo è quello che dovrebbe succedere e questo è per una macchina pensate di avere tante macchine e questo è appunto il problema del traffico di cui vi stavo parlando ma un problema simile che però suona apparentemente diverso è quello delle missioni spaziali cioè supponiamo di avere un satellite che viene mandato in orbita e questo satellite deve fare tante foto della Terra in tanti posti diversi in un certo tempo che percorso fa? bene è un problema simile in realtà a quello di prima e anche qua supponiamo che anziché avere un satellite ne abbiamo non lo so 500 5.000 e dobbiamo organizzare la missione spaziale di questi satelliti per un certo numero di giorni anche solo per un giorno solo cioè questo è un altro esempio di un problema che è difficile da risolvere classicamente oppure un altro problema in cui dobbiamo minimizzare qualcosa in questo caso dobbiamo trovare uno stato che descrive per esempio una molecola o uno stato che descrive un materiale per trovare il minimo dell'energia il minimo comunque diciamo per accedere alla configurazione di una molecola o di un certo di un certo materiale vicino allo stato fondamentale all'energia al minimo all'equilibrio diciamo e perché questo ci interessa perché ci interessano descrivere correttamente le proprietà di quella molecola o di quel materiale anche lì abbiamo una funzione da minimizzare che è sempre la nostra energia ok non so quanto tempo ho però volevo raccontarvi questa quest'ultima cosa benissimo è vero che i nostri computer funzionano così così quantistici nel senso hanno tutta una serie di problematiche però è anche vero che nel 2019 è stato fatto questo esperimento in cui è stata dichiarata la quantum supremacy che vuol dire che abbiamo che è stato un computer quantistico che si chiama Sikamore è il computer che è stato fatto da Google che ha risolto un problema difficile molto più velocemente di quello che ha fatto che farebbe un computer classico questo è il concetto di supremacy cioè supremacy che poi si dice in realtà anche advantage sono due concetti analoghi quantum supremacy e quantum advantage l'idea è quando ho un computer quantistico che fa qualcosa più velocemente di un computer classico ora questo era veramente un problema molto specifico il problema era generare uno stato costruire uno stato random di un certo tipo che aveva certe alcune proprietà appunto un problema molto specifico che da come vi racconto non sembra particolarmente utile cioè non è un problema utile ma l'utilità non è necessaria per avere la supremacy la supremacy significa solo ho un problema che un problema qualunque che quantisticamente risolvo più velocemente di un problema classico di un computer classico la cosa interessante ok per fare questo Google ha costruito un processore di contenente 53 qubit l'esperimento è bellissimo però la cosa interessante è che un anno dopo penso questo stesso esperimento cioè non diciamo la soluzione dello stesso problema è stata trovata in maniera approssimata ma comunque non distinguibile da quella eseguita sperimentalmente da Google con un computer classico un portatile come abbiamo fatto a fare questo è veramente la quantum supremacy allora questo è stato fatto perché è vero che ci sono i computer quantistici ma ci sono anche gli algoritmi classici ci sono gli algoritmi classici che ci permettono di approssimare quello che sono le correlazioni quantistiche che sono quelle che sono veramente difficili da descrivere su un computer classico e utilizzando questi algoritmi è possibile fare questa simulazione ed è possibile simulare in maniera approssimata ma approssimata al punto che da essere indistinguibile con il problema quantistico questo però ci lascia con una serie di domande e una serie di cose che impariamo in realtà la prima che è importante è che il vantaggio quantistico il concetto di advantage supremacy come lo vogliate chiamare è un concetto mobile non è dipende dalla progressione dell'hardware quantistico ma anche dalla progressione degli algoritmi classici che chiaramente vanno avanti di pari passo l'altra cosa è che il problema di google non aveva nessuna applicazione nessuna utilità pratica quindi ci interessa guardare a problemi che abbiano un'utilità anche pratica ed è in quest'ottica che prima vi raccontavo dei problemi di ottimizzazione che sono appunto sono problemi che riguardano anche la nostra quotidianità quindi la domanda vera a questo punto è quando è necessario di avere un computer quantistico e questa è una domanda di cui sappiamo in parte la risposta cioè la risposta è quando le correlazioni quantistiche non sono più approssimabili con metodi di simulazione classica quando per quanto il mio algoritmo classico sia fedele o comunque sia buono non riesce a descrivere la fisica che vogliamo descrivere questo quando succede per esempio succede non solo alle scale energetiche non solo in IEN nella descrizione delle alte energie ma succede anche nella simulazione della materia alla scala atomica dove non posso più prescindere dalle correlazioni quantistiche ora chiudo solo con tre cose un po' più di diletto diciamo dove posso provare un quantum computer vi ho raccontato tutto questo magari qualcuno si è anche incuriosito e magari qualcuno vuole provarci a usarlo un quantum computer ecco l'idea è che non si possono comprare ovviamente non ci sono ancora però dal mio computer di casa tramite il cloud riesco a raggiungere un quantum computer e lo posso fare ci sono dei servizi alcuni sono a pagamento però ci sono anche dei servizi gratuiti cioè IBM ecco si vede malissimo ma usando questo sito qua quindi quantumcomputing.ibm.com voi potete avere accesso a tempo macchina su un computer quantistico non solo potete cominciare a giocare con i circuiti che vi facevo vedere prima c'è un libro di testo e potete usare la macchina quantistica potete usare un simulatore di un computer quantistico e sono tutte cose che potete fare da casa e gratuitamente infine chiudo con una nostra iniziativa se vi interessa ma anche se non vi interessano noi non abbiamo quantumcomputer da farvi vedere ma possiamo giocare con tutto questo e questo succederà il 14 aprile al centro universitario di via Zavarella e nel pomeriggio è un venerdì dalle due del pomeriggio alle sette e mezza di sera abbiamo un po' di giochi da farvi fare dei giochi da tavolo dei giochi al computer potete ci sarà un laboratorio d'arte e poi potete parlare con noi e anche con tutti i membri del gruppo e farvi qualche idea un po' più chiara su tutto quello che facciamo e che si fa in questa nel World Quantum Day quindi io chiudo così grazie mille bellissimo allora adesso apriamo le danze alle domande sì se ci sono delle domande sentiamo qua su allora se posso chiedere ci parlereste del Quantum Manifesto dell'Unione Europea cosa significa è del livello degli investimenti che adesso ci sono in giro per il mondo Cina Stati Uniti eccetera grazie assolutamente funziona sì assolutamente sì allora fin troppi quanto manifesto è stato un 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 manifesto quindi un documento che ormai cinque anni fa se non vado errato è stato il risultato di due o tre anni di lavoro tra l'altro diciamo io all'epoca ero a Ulm in Germania e quello era il centro un mio collega era il centro di questo di questo sforzo collettivo per convincere tutti i governi europei a finanziare le tecnologie quantistiche voi diciamo adesso vi abbiamo parlato dell'aspetto scientifico poi la scienza è a certi livelli indistinguibile dalla politica e come tutte le cose per far succedere per far succedere le cose bisogna fare politica e politica della scienza e politica di finanziamento della scienza l'Europa era diciamo dieci anni fa in una situazione in cui era leader mondiale dal punto di vista di ricerca universitario ma su tutte le tecnologie quantistiche ma come dire le grandi corporation americane e la Cina in particolare stavano iniziando a muoversi per esempio Google il programma di Google per la costruzione del computer quantistico è ormai iniziato vedo 15 anni fa con un progetto decennale e allora quello che è successo si è richiesto all'Unione Europea e ai governi europei di finanziare lo sviluppo delle tecnologie quantistiche e in particolare il passaggio che è assolutamente non banale dai centri di ricerca all'industria allora il quanto manifesto è stato un manifesto firmato da credo 10-20 mila colleghi in tutta Europa in cui si chiedeva all'Europa di creare una fonte di finanziamento per far succedere questa cosa perché altrimenti non sarebbe successa il risultato è stato ottimale nel senso che un anno dopo la Commissione europea ha finanziato la Quantum Flagship le Flagship sono dei programmi di finanziamento speciali dell'Unione Europea che appunto dedicate a un particolare topic strategico e quindi l'Unione Europea ha finanziato con un miliardo di euro per i dieci anni successivi lo sviluppo delle tecnologie quantistiche ora questo programma è iniziato nel 2019 sono partiti un certo numero di progetti piloti nei quattro pilastri delle tecnologie quantistiche sensori computer communication e me ne sto mancando uno computer communication sensori e simulatori i progetti pilota sono finiti adesso e adesso sono partiti i progetti diciamo quelli che dureranno per altri sette anni partono in verità partono adesso il primo aprile e i risultati concreti di questi progetti sono stati che uno quello che dicevo prima l'European Quantum Backbone quindi dal lato di comunicazioni quantistiche si sta mettendo la fibra per portare le comunicazioni quantistiche in Europa a livello industriale abbiamo un progetto che si chiama Open SuperQ che sta sviluppando un computer quantistico superconduttivo come quello di Google centrato al centro di supercalcol di Julich in Germania ma con uno sforzo europeo collettivo sono essenzialmente vari laboratori e industrie che fanno i loro pezzi e poi li mandano tutti lì e dove sta essendo montato per quanto riguarda i simulatori quantistici invece esiste un altro progetto che si chiama Pasquans di cui qui a Padova noi coordiniamo la parte teorica e quello si invece si sta si promette di appunto sviluppare i simulatori quantistici in collaborazione con i centri di Parigi e di Monaco ed altri centri di ricerca importanti proprio per mantenere l'Europa competitiva a livello mondiale perché l'idea è che non vogliamo perdere la competitività su queste tecnologie che promettono se non sono già le tecnologie dei prossimi 80 anni se vediamo quello che è successo con i diciamo con i calcolatori classici abbiamo a un certo punto perso l'accesso alla tecnologia quindi questo è un tentativo di almeno competere è una sfida globale molto molto complicata ma stiamo giocandoci le nostre carte diciamo sì io volevo chiedere sempre parlando di questa competizione esiste un rischio di applicazione militare di queste conoscenze la risposta è ovviamente sì come tutta la tecnologia la tecnologia tipicamente tutta si può usare in vari modi beh la prima l'ho detta prima l'algoritmo di Shore è un'applicazione militare se volete rompere leggere tutte le comunicazioni private degli stati competitor delle industrie competitor quello è un uso militare ovviamente uno se ne può pensare con i computer qualunque cosa che si fa con un computer classico si potrà fare con un computer quantistico e le ricadute sono diciamo a vari livelli dirette o più o meno scopro un nuovo materiale poi lo posso usare su un cadarmato non lo so per cui sì c'è e tipicamente sta poi alla politica e all'utilizzo che se ne fa gestirla nel migliore dei modi chiaramente nessuno vorrebbe che fosse usata per scopi militari faccio una io come si fa a sapere se il computer quantistico fa calcoli giusti se fa calcoli che non riesce a fare nessuno questa è una bellissima domanda appunto come diceva Ilaria prima è attualmente al centro del tipo il nostro gruppo noi di mestiere facciamo rompiamo le uova nel paniere nel senso che noi facciamo di mestiere sviluppiamo algoritmi classici che cercano di alzare l'asticella e l'abbiamo fatto in varie volte per i computer quantistici all'interno di questo progetto di cui facciamo parte abbiamo alcuni laboratori che sanno fare dei conti fantastici un anno fa in una riunione sono andato lì gli ho fatto vedere che noi lo sapevamo fare e non erano tanto contenti i nostri colleghi però almeno avete testato il computer quantistico però l'altra parte è che noi possiamo dire se riuscite a fare questa cosa che è molto complicata la vostra macchina funziona e funziona bene e sperabilmente fra due anni guadagna punti di affidabilità esattamente quindi voi certificate in qualche modo questa è una parte del nostro lavoro esattamente e richiedono un ammodernamento delle linee di trasmissione comuni hanno bisogno della fibra ottica per forza per voglio dire i computer quantistici no a meno che non si pensi a una cosa che è ancora più visionaria e che comunque c'è già qualcuno che ci lavora che è quella che si chiama la quantum internet ovvero l'idea di quando avremo i computer quantistici ne metteremo una serie e li metteremo in parallelo e allora a questo punto per fare un calcolo quantistico parallelo su tutte queste macchine distribuite anche le comunicazioni dovranno essere fatte in maniera quantistica perché dobbiamo preservare quelle due proprietà che abbiamo detto fondamentali e quindi dovremo scambiare correlazioni e formazione quantistica fra queste e quindi lì sì questa tra l'altro è un'altra di quelle cose che in prospettiva Ilari ha menzionato che il Cineca ha il nuovo supercalcolatore comprerà un computer quantistico un'altra iniziativa lodevolissima dovuta all'Europa e al Recovery Plan il Recovery Plan ha finanziato 5 centri di ricerca per sviluppare la ricerca dei prossimi decenni in Italia e rendere l'Italia competitiva uno di questi centri di ricerca nazionali è finanziata con 350 milioni di euro per i prossimi tre anni è il centro per l'High Performance Computing i Big Data e il Quantum Computing che sarà è una fondazione nazionale che coinvolge il Cineca l'Infn l'Università di Padova e le altre università le università nazionali e noi insieme al Politecnico di Milano coordiniamo la parte di Quantum Computing per cui lo sforzo locale è anche finanziato da questo centro nazionale e una cosa che vorremmo fare nel futuro è avremo un computer quantistico comprato da un'azienda a Bologna avremo il nostro computer quantistico qui che svilupperemo noi e quindi svilupperemo anche le conoscenze non solo per utilizzarlo ma anche per costruirli e poi sperimentare usare Bologna Padova come linea di sperimentazione proprio per far comunicare questi due computer questa cosa è abbastanza difficile ma lavoriamo speriamo ci sono buone notizie quindi per i prossimi lavori futuri mi sembra che anche siano finanziati e volevo sapere se avete già raggiunto la Supremacy la Quantum Supremacy dal punto di vista delle persone che ci si dedicano rispetto che ne so alla fisica delle particelle in questa stanza non posso parlare questa domanda la lascio il Vice Direttore è una sfida c'è una sfida in atto devo dire uno i fisici come tutti gli scienziati siamo competitivi e ognuno di noi pensa di fare la cosa migliore più bella e più interessante di tutte le altre ottima risposta grazie però la competizione è sana e in verità qui dentro voglio dire che appunto come diceva abbiamo messo a sinergia tutte le varie conoscenze abbiamo preso questo progetto del Dipartimento di Eccellenza che proprio una parte sarà quella di dire cosa possono fare queste tecnologie per l'astronomia per la fisica delle altre energie e cosa noi possiamo imparare da loro quindi insomma ce la caviamo via facciamo ok grazie se c'è qualche altra domanda ok bene allora abbiamo penso che possiamo ringraziare i nostri relatori è stata interessante brava con l'auspicio che magari qualcuno di voi coglierà gli stimoli anche per poi diventare magari come avevi invitato prima siamo bravissimi a riconoscere le facce quindi ora ci ricordiamo di voi grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti